Il lavoro c'è, lo vogliamo fare noi, il lavoro c'è, lo vogliamo fare noi, il lavoro c'è, lo vogliamo fare noi, non alla privatizzazione, non alla privatizzazione dei servizi, i servizi non ci devono rimanere pubblici, per dirlo così non ci ascoltate più da nessuna parte, non ci ascoltate più da nessuna parte, esasperati, la prima gennaio siamo tutti a casa, continuiamo eh, quando i nostri amici consiglieri ci vogliono non ascoltare, non ascoltare, compadentore Buon Natale a tutti, ma raccomando eh!